Bene, di nuovo nel laboratorio di Sound Machine con Valentino, ciao a tutti, presentarvi questo intervento su Mazda MX-5. Qui abbiamo sostituito l'autoradio originale che è ancora cassette con un Syntho Monitor del catalogo Alpine, l'IVH530BT, quindi radio CD di WD, Bluetooth integrato senza navigazione, è un lavoro molto semplice di integrazione e abbiamo provveduto a sostituire gli altoparlanti mantenendoli all'interno delle predisposizioni originali, per cui guardando la porta da fuori non si vede nulla di diverso da quello che è la predisposizione d'origine, abbiamo però installato all'interno delle predisposizioni un woofer da 20 cm e un nuovo twitter, provvedendo anche al trattamento dei lamierati con dei materiali smorzanti apposta insomma, in modo da poter garantire che una volta collegato questo possente amplificatore 4 canali, di cui 2 canali vanno sui medio bassi e 2 canali vanno sui twitter, manovrati dal processore audio B10, non si generassero vibrazioni fastidiose prodotte dalle lamiere nude, quindi facciamo un piccolo assaggio di volume, si ottengono veramente dei bassi strepitosi anche in assenza di un subwoofer, visto che l'abitacolo è piccolo e ovviamente due woofer da 20 ben amplificati, si fanno si fanno sentire decisamente, l'effetto massaggio sul sedile è veramente eccezionale, c'è un basso molto nerboruto e profondo, devo ritrovare una trattamento, eccola qua, ovviamente dal microfonino del telefonino sarà un po' difficile percepire la sensazione coinvolgente del basso, ma vi assicuro che su una macchinetta di questo genere il risultato è eccezionale. Bene, anche con questo giocattolo vi saluto, alla prossima da Valentino, ciao!